facciamo una bella foto ma lo sfondo non ci piace non ci resta di scontornare e i capelli tranquilli in questo tutorial vi insegnerò come poterlo fare in maniera veloce e soprattutto facile ok siete pronti sono marco mi occupo di grafica e comunicazione e questi tutorial li ho fatti apposta per voi eccoci qua siamo all'interno dell'interfaccia photoshop andiamo quindi a lavorare con i canali essendo una foto in bianco e nero la differenziazione tra i diversi canali non c'è quindi il rosso il verde e il blu saranno esattamente uguali quindi prendiamo un canale a caso e duplichiamolo così ora dobbiamo cercare di contrastare maggiormente la parte interna quindi la parte del soggetto con lo sfondo che in questo caso è bianco per fare questo dobbiamo aprire regolazione valori tonali l'interfaccia che abbiamo davanti adesso in pratica è la regolazione dei bianchi e dei neri all'interno della fotografia spostando il cursore che troviamo sulla sinistra agiremo sui neri da come potete vedere la parte scura quindi i neri vengono fuori prepotentemente così facendo però ci troviamo una situazione dove il bianco si è sporcato chiamiamolo così ed è diventato grigio a questo punto lo dobbiamo azionare la levetta del bianco e portarla verso il nero fino a quando il bianco non ritorna ad essere eccolo un bel bianco pulito diciamo che può bastare ok bene adesso ritorniamo sui livelli principali sul livello principale e la cosa che dobbiamo fare a anzi scusate ritorniamo sui canali e clicchiamo tenendo premuta la mela su photoshop per mac e alt su photoshop per pc cliccando sul canale che abbiamo appena creato in questo modo creeremo una selezione faremo una selezione all'interno del soggetto stesso ora spostiamoci sui livelli e la cosa da fare dobbiamo creare una maschera di livello così facendo distaccheremo praticamente lo sfondo dal soggetto dobbiamo anche invertire naturalmente il soggetto stesso eccolo qua allora la cosa che si può notare a prima vista è che la parte esterna anzi facciamo così creo un nuovo livello di regolazione a tinta unita in modo che da farvi vedere bene di cosa sto parlando lo spostiamo sotto eccolo qua questo è quello di cui vi stavo parlando ossia come vedete la parte esterna è tutta rossa che vuol dire che è stata selezionata alla perfezione ma all'interno della figura stessa ci abbiamo il problema che ci sono delle macchie rosse cosa vuol dire che all'interno dell'immagine quindi delle del soggetto ci sono trasparenze noi dobbiamo eliminare queste trasparenze per poter selezionare l'intero soggetto come fare ci spostiamo sul canale scusate sulla maschera di contrasto teniamo premuto il tasto option e clicchiamo sulla maschera così facendo terremo un bel contrasto bianco e nero su quelle che sono il nero lo sfondo e il bianco il soggetto come evidenziato nell'immagine precedente abbiamo queste zone nere che sono in trasparenza a questo punto dobbiamo eliminarle o meglio coprirle con cosa selezionando il pennello e come colore bianco per far sì che la maschera diventi omogenea e tutta bianca in questo modo ecco qua mi raccomando fate attenzione ai margini spostate così ecco occhio all'esterno perché l'esterno praticamente è il contrasto dei capelli con lo sfondo così dobbiamo riempire tutta questa zona qua con il bianco per far sì che venga selezionata interamente naturalmente adesso dobbiamo fare attenzione là dove ci sono i margini eccolo la barba il naso così ci stiamo avvicinando ai punti critici ok bene piano piano non avete fretta perché deve essere un lavoro fatto bene perché se no dopo ce lo ci ritroviamo le piazze rosse all'interno quindi le trasparenze ecco qua piano io sto lavorando con un pennello troppo grande quindi io direi di rimpiccolirlo un pochino così piano piano avvicinarci al bordo eccoci ci siamo bene ora resta questa parte qua che la parte sopra la spalla non vi preoccupate se sbagliate c'è il sistema per rimediare ecco qua il sistema qual è e se io tante volte posso magari distrattamente cliccare su una parte esterna ossia là dove dovrebbe essere selezionato con il bianco inverto il colore e ritocco la maschera facendo così che la maschera stessa si riporti al suo valore originale ok clicchiamo sul soggetto vediamo cosa è successo eccoci qua come potete vedere il soggetto resta molto bello pulito quindi non ci sono delle trasparenze rosse che si vedono sotto il che vuol dire che lo scontorno è stato effettuato con successo ora dobbiamo porre attenzione a queste parti esterne i capelli del ragazzo sono già all'interno della foto all'interno della testa sono già molto chiari bianchi eccetera eccetera però ci sono delle aree esterne che sono come che hanno tipo un alone intorno non so se lo vedete ma non è una cosa bella da vedersi perché naturalmente aumenta il distacco tra lo sfondo che metterete e il soggetto per far questo dobbiamo creare un nuovo livello per poter ovviare questa cosa un nuovo livello e come metodo di fusione mettiamo scurisci ok ed ora dobbiamo creare una maschera di ritaglio sulle proprietà del livello eccola qua crea maschera di ritaglio se ce l'avete in inglese è clipping mask ora selezioniamo il clone lo stamp e andiamo a prendere come campione una parte interna dei capelli come in questo caso e portarci non dopo naturalmente aver posizionato il livello del campione su livello attuale e sotto quindi andrà a prendere il livello 1 dove dove diciamo interverremo con il pennello e il livello sotto dove questa operazione andrà a svolgere la sua funzione abbiamo selezionato quindi la parte centrale e andiamo a ritoccare i capelli come vedete le parti chiare si scuriscono ecco io vi consiglio tipo in questo caso di non esagerare perché perché le foto praticamente scusate la foto appresenta molti capelli bianchi all'interno quindi se voi praticamente fate troppo scuro all'esterno si avrà una un problema di troppo diciamo evidenziare il nero esterno e l'interno invece è a chiazze bianche e così e quindi non va bene ecco qua io direi che può almeno per i capelli può bastare ecco queste aree che sono più un pochettino più delicate più bianche ecco così naturalmente c'è anche da ritoccare vedete tutto questo alone bianco intorno alla barba sotto ritocchiamo anche questa zona qui quindi potete intervenire magari in maniera più decisa almeno sulle parti ecco più esterne così fatto questo finalmente possiamo applicare lo sfondo che più ci aggrada in questo caso abbiamo uno sfondo rosso che naturalmente può essere cambiato in diverse colorazioni con il livello di regolazione quindi con il livello della tinta piatta oppure perché no aggiungere un altro tipo di sfondo magari un bel panorama io avevo selezionato questa immagine qua la selezionate completamente copiate e incollate sopra il livello dei colori non ho copiato eccoci qua vedete è rimasto fuori un pezzo sopra dove il capello è rosso niente paura ritorniamo dove stavamo prima riselezioniamo lo stamp e dobbiamo intervenire eccolo su questa parte che è rimasta evidentemente era rimasta scoperta eccola qua a posto fatto bene lo scontorno è completato l'immagine ce l'abbiamo eccola qua ok il tutorial è completato spero che vi possiate divertire con le vostre foto e i vostri primi piani e quello che vi posso chiedere se vi è piaciuto mettete un bel like seguitemi nel mio canale youtube facebook instagram oppure su marcopallotto.it al prossimo tutorial ciao